Devo dire che lo stato di emergenza nazionale addirittura che è stato decretato dal governo italiano mi sembra veramente fuori luogo, inopportuno devo dire anche perché stiamo parlando di 5, 6 mila, 7 mila persone che sono arrivate più a Lampedusa ma diciamo decretare lo stato di emergente per 6, 7 mila, anche 10 mila persone mi sembra veramente fuori luogo e mi sembra che stanno enfatizzando un po' il problema io penso che invece sia una cattiva gestione perché se fosse una gestione più oculata e più responsabile sicuramente il problema è che sono sorti a Lampedusa, insomma il spot di Lampedusa dove ovviamente un centro con 400 posti ovviamente ne deve ospedare 2 mila, allora sono in grave difficoltà, in grave difficoltà ovviamente anche i gestori, le forze di polizia ma soprattutto queste persone che sono costrette a vivere in condizioni disumane per cui io dico che quello è un problema di disorganizzazione, di cattiva gestione perché se venissero come si faceva prima, come dire trasferiti in tempo reale da Lampedusa dopo l'identificazione tutto questo problema, siccome è una strategia proprio per far capire che c'è l'invasione, che sono i problemi, ma se 10 mila persone o 20 mila persone o 30 mila quanti sono dall'inizio dell'anno persone è un fatto emergenziale, non abbiamo capito nulla.